Signori, io ve lo butto lì, vi sfido, 8.000 mi piace e vi carico subito la seconda parte di questo demo gameplay di Alex Hunter, il viaggio Bene tutti i genitori, benvenuti qui in questo nuovo video ragazzuoli, sono Dallalox e finalmente oggi è tempo di E-News Bene sì perché da come avrete letto il titolo abbiamo il gameplay di Alex Hunter ragazzuoli e adesso andremo a vedercelo insieme Prima che il video incominci scrivetemi qui sotto in un commento, voi farete la modalità del viaggio? Scrivetelo qui sotto in un commento, forza! Comunque come vi stavo dicendo andiamo ad analizzare subito questo video gameplay in live signori E la cosa più bella già ragazzuoli è quella della possibilità di scegliere tra i tre personaggi che state vedendo qui sotto Ci abbiamo Hunter, sua sorella e Danny Williams, andiamoci a godere questo gameplay Allora vediamo Alex Hunter che parte subito con il match Real Madrid-Majester United di Champions League Questo video proviene direttamente dal Gamescom che si sta svolgendo a Cologne, infatti nei primi 20 secondi vedremo questi due sviluppatori O comunque sia, colui che fa l'intervista e lo sviluppatore che parlano della modalità del viaggio Vediamo appunto Danny Williams che si trova in Inghilterra e gioca con il Manchester United Mentre il nostro Alex Hunter finalmente si è trasferito a Real Madrid Ecco qua, sorteggi di Champions, Paris Saint Germain nel girone E Alex Hunter e Danny Williams che li seguono in diretta con la speranza di potersi ritrovare insieme a competere in questa competizione Mamma mia signori, veramente, veramente tanta roba quest'anno, questa cavolo di Champions League farà fare i buchi Mamma mia signori, veramente non vedo, non vedo, non vedo l'ora Non riesco a capire da questo video se si stanno tenendo in contatto, ma io credo proprio di sì Williams e Hunter credo che siano in videochiamata, infatti, ah sì, ok, erano in videochiamata Ragazzi, li si stavano anche sfottendo, tra parentesi, per non aggiungere altro Arriva questa donna che non so se è la manager oppure, sì è la manager, credo molto probabilmente Sia la manager e adesso parlerà un po' in generale di questa competizione appunto ad Alex Hunter Che è veramente casato perché è a Sarola, ma è Real Madrid, sei brutto per fare la Champions League E vedremo dopo cosa significa la Champions League per Alex Hunter Vedremo qualcosa di davvero, davvero, davvero spettacolare Intanto vi lascio qui sotto il gameplay, guardate che spettacolo, lo spondo, Champions League Mentre Alex Hunter parla, mamma mia, una vera figata Attenzione perché adesso arriva il pezzo forte Santiago Bernabéu Stadium, Summer 18 Alex Hunter arriva al Santiago Bernabéu e si va a mettere la sua maglietta Guardate che figata ragazzuoli, tutti i giocatori, ognuno di loro, ha i propri nomi, magliette, il proprio armadietto, ha tutto Guardate Alex Hunter un po' stupito E poi lì, vicino a Sergio Ramos, Bale e Toni Kroos, c'è la 29 di Alex Hunter ragazzuoli Scrivetemi se volete un contest per la maglietta di Hunter, dai Vediamo se volete questo contest, scrivetemelo qui sotto in un commento Alex Hunter va a vedere finalmente la sua maglietta Hunter 29, ignorantissimo, spettacolare ragazzuoli, mamma mia Vi giuro non vedo l'ora di iniziare i miti di questo Alex Hunter Perché sarà qualcosa di pazzesco, 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 pazzesco Ok, adesso arriverà appunto un tecnico sportivo, tra virgolette Alex Hunter si è finalmente cambiato e sono tutti pronti per andare a fare l'allenamento L'Alex Hunter di questo gameplay fa il centrocampista molto probabilmente Adesso andrete a vedere, eccolo qua Presenta Alex Hunter ai giocatori del Real Madrid I centrocampisti, però infatti possiamo vedere che sono presenti Casemiro, Modric, Toni Kroos Poi ci sono anche Bale e Marcello, non capisco il motivo Però, vabbè, sarà un allenamento generale Nuovo caricamento E finalmente c'è il primo gameplay particolare di questo The Journey, signori Guardate che figata Il Torello, che è una sorta ovviamente di allenamento stile quello normale di FIFA Praticamente che ci danno i punteggi ogni passaggio Poi ovviamente se fai il passaggio particolare riceverai più punti, credo E comunque sia, è una sorta di Torello Se sbagli il passaggio, tani il cross sdraiato per terra Se sbagli il passaggio vai in mezzo e devi cercare di recuperare la palla Come è successo adesso a Casemiro Guardiamocelo tutto ragazzoni perché è davvero una figata L'allenamento durerà circa un minuto Adesso siamo a 17 secondi alla fine È stato già completato con 5700 punti Alex è andato di nuovo in mezzo come un pollo È davvero particolare perché questo tipo di strutture, questo tipo di allenamento Non si vedono molto su FIFA Anzi è la prima volta direi Anche se il calcio, il calcio quello lì di strada è stato presentato lo scorso anno Alex Hunter termina la sua fase di allenamento E adesso è qui il pezzo più bello ragazzuoli Finalmente si scende in campo UEFA Champions League Manchester United Versus Real Madrid Ci troviamo al sessantesimo minuto circa se non erro E eccolo qui Alex Hunter è pronto al debutto con la maglia del Real in Champions League Incredibile Allora, in pressione al boss dobbiamo ottenere un otto e mezzo minimo di valutazione Dobbiamo fare perlomeno un assist E cercare di rompere praticamente il gioco E vincere la partita ragazzuoli Alex Hunter entra in campo Ora andiamoci a godere questo gameplay tutto insieme Dove la seconda parte ve la caricherò poi Quindi tenetevi pronti e lasciate 8.000 pollicioni Vi carico la seconda parte Quindi forza ragazzuoli Dagli sotto i pollicioni Allora, eccolo qui signori Mamma mia che spettacolo l'ambiente Champions League Le scrittine della Champions Eccolo qui Alex Hunter 6.2 Appena entrato Posizione Qui lo dà prima punta Non so perché me lo dà prima punta Comunque sia, subito ottima apertura verso Marcello Che porta avanti il pallone Scabbio con Caseviro Eccolo, Alex Hunter all'azione Ancora verso Marcello Marcello sbaglia tutto E controviene del Manchester Vediamo se il nostro Alex Hunter Riuscirà a completare in questa prima parte del gameplay Il suo obiettivo Eccolo qui Alex Hunter Prende palla sulla fascia laterale L'appoggio per Bale Graffita Bale, Bale Niente, non ce la fa Bale a segnare E il voto è già 6 vese e mezzo Guardate anche L'esultanza O anche le personalizzazioni Signori, sono fighissimi Tutti questi standardi Tutti questi Bellissimo, signori Gli sponsor Quelli veri Come Mastercard E le varie Equal Game Vabbè, il solito Respect Comunque sia Contropiede Magistar United Può partire credo che sia Pogba Quello Ma perde la palla Invece no Vola polpa Pogba Vola polpa Pogba E qui, signori Finisce la nostra prima parte Del gameplay Ragazzuoli Io spero che ovviamente Questo video vi sia piaciuto Lasciate un like, un commento Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Appena raggiungiamo 8000 like Vi pubblico subito Il nuovo Episodio gameplay Di Alex Hunter Ragazzuoli Questa è qui Con il buon Talox È tutto Tintalox Di Deferrat Bene ragazzuoli